Sembra che le cose stanno seguendo in base al cronoprogramma già dettato da ferrovie. Tanto è vero che il fabbricato viaggiatore è in completamento per fine anno. Si sono realizzati ulteriori posti auto nell'area RFI. Oltre a questo ci sarà il completamento dell'area con asfalto, piantumazioni di piante, la sistemazione dell'area esterna. Questo entro il primo trimestre del 2025. Poi partirà il completamento per i lavori al terzo binario, che sarebbe il terzo marciapiede, dove sarà collegato e installata una nuova ascensura per il collegamento all'ascensura del primo binario che è stato già installato. I sottopassi sono terminati i lavori, invece poi proseguiranno, dopo queste opere proseguiranno gli interventi al secondo marciapiede. Secondo marciapiede che purtroppo sono regolamentati per l'esercizio ferroviario, perché come sapete la maggior parte dei treni passano dal secondo binario, allora si deve cercare un attimo di non creare disagi per i viaggiatori. Intanto sono partiti i lavori all'esterno dello scalo ferroviario. Questi sono lavori che termineranno per il trimestre del 2025. Sarà fatto un miglioramento di tutta la piazza come da progetto.